Spero tutto bene. Riprendiamo lo studio della magnifica lingua che era madrelingua di moltissimi personaggi della cultura e della storia. In questa lezione ricapitoliamo tutto quello che abbiamo imparato con i video precedenti. La culminazione, l'ultimo video di questa serie, ci insegnerà come affrontare molti obiettivi linguistici e didattici posti insieme. Ecco la conversazione che raggruppa molte parole imparate di recente. Sai già pronunciarle tutte o forse qualche cosa ancora ti sfugge e questo tipo di esercizi, conversazione, è mirato all'apprendimento con massima efficacia. Assimili le regole più fresche nella tua mente mentre pratichi la lingua che sta imparando. Va benissimo sbagliare. Chi non sbaglia non arriva da nessuna parte. Prima ripassiamo alcune cose, poi prova a rispondere alle mie domande. Le parole che ti serviranno tra pochissimo sono queste. Poi ne appariranno altre perché non ci stavano in un elenco unico. Molte di esse le conosci già appunto a male. Ripassiamo lo stesso per avere più fiducia nelle proprie forze. Per prima ripassiamo le quattro forme del pronome interrogativo di chi. Maschile, femminile, neutra e plurale. Poftarei a esame noi. Atлично. Ora diamo un'occhiata ai sostantivi collettivi, quelli che rimarranno sempre al singolare. per avere più ombucia, che rimarranno sempre al singolare. Quest'ultimo è un verbo all'aspetto perfettivo il che significa che descrive un'azione compiuta svolta una sola volta come diresti ho comprato Ora, per dire mercato possiamo dire sia rinac sia bazar come diresti al mercato, considerando che è un luogo all'aria aperta? Va davanti La tipica pietanza siberiana che si è diffusa un po' in tutto il mondo slavo e nei paesi adiacenti Quale delle due forme usi se devi dire questo telefono? La prima Quando potrai usare la forma al neutro? ETA con la parola telefono Quando sarà il predicato della frase cioè quando traduce il verbo italiano essere al presente ETA telefon E' un telefono C'è ETA telefon? Di chi è il telefono? Non so di chi è il telefono In queste frasi il posto dell'aggettivo è già occupato dalla parola CEI oppure non serve proprio come in ETA telefon E l'ultima parola sull'elenco è Come si direbbe la sua forma al femminile? Standardnaia Ottimo Prova a sostenere dei dialoghi In cui io ti faccio domande Tu scegli se tradurre la risposta suggerita da me Oppure dire una cosa tua Io ti potrò rispondere E tu di nuovo reagisci a quello che ti dico Così impari a domandare A suggerire E confermare A criticare E a sostenere In lingua russa Via Immagine che sei nell'immagine Mi potrò rispondere con Si Io so di chi sono i mobili Sono i loro mobili Non farli per favore Mi potrò rispondere con la tua reazione potrebbe essere loro non vogliono questi mobili loro vogliono quei mobili non vogliono questa roba le vogliono la tua roba le vogliono fare come che sarà letteralmente cosa scusa io dormo tutto il giorno abbiamo lavorato adesso stai sdraiato qui riposeremo che? scusate, io dormo tutto il giorno abbiamo lavorato ora resti qui abbiamo lavorato La risposta potrebbe essere Io risparmio sempre E anche tu risparmi È importante Per esempio Ho comprato i miei vestiti al mercato Io sempre economio E tu economi È importante Naprimer Io купi la mia одezza Na basare Che noi будемo raccattare Navstrecce? Raccontiamo del risultato Noi lavoriamo molto E sappiamo bene quali sono i risultati adesso Raccontiamo del risultato Tutto quello che voi amate Gatovite Tutto quello che voi amate Che voi amate Bene Il vostro cibo più buono Secondo me sono i pelmini Preparati e pelmini Gato Gato Questa volta inizi tu e mi dici Dove lavora questa persona? Non tacere, è importante Questa volta iniziando E tu mi rispondi Io voglio chiedere a lui di chi è il telefono Questo telefono ieri era al parco E adesso io penso che questo sia il telefono di lui Io voglio chiedere a lui Che è il telefono? Questo telefono è il telefono di lui E adesso io penso che è il telefono di lui Interessante ma penso che il nostro direttore dirà Siate come tutti Qui devono essere le calzature standard E io penso che il nostro direttore E io penso che il nostro direttore «Здесь должна быть стандартная обувь». «Мы будем говорить с вашим директором». Molto bene. Очень хорошо. Все в порядке, если некоторые слова еще не запоминаются. Или если не совсем понятна грамматика. В каждом языке есть своя логика. И эту логику мы можем понять только тогда, когда много говорим на этом языке. И, конечно, важно изучать культуру стран, в которых говорят по-русски. Мы не можем понять язык на уровне менталитета, если этот менталитет остается для нас за семью печатями. Поставь лайк под этим видео и увидимся на следующем уроке. Пока. До скорого. Давай женскую форму я запишу, потому что не знаю, что будет на фотках. Я купила мою одежду. Вот да, вот это будет. Если не будет мужчина, будет женщина. Обычно женщина.